e sì noi ci riproviamo vi ricordate cosa abbiamo fatto qualche mese fa qualche mese fa noi a sorpresa siamo venuti a cena da uno di voi vi ricordate che è stata la prima no la signora finocchiaro scelto e chi ha visto i video sa come è andata la questione ma stasera replicheremo quello che abbiamo fatto scelto quindi la nuova rubrica cena sorpresa con i morti di fame ricomincio scelto quindi chi sarà stasera ad avere l'onore di avere a mio conte o conte che sai a cena ma soprattutto a sorpresa ma soprattutto mangeremo ma soprattutto ci apriranno ma soprattutto cosa succederà vabbè non ci resta altro che attendere voi attendete video perché noi cominciamo ad andare ma si inizia da buon ospite ad andare a comprare un omaggio floreale al nuovo padrone di casa scelto un nuovo padrone di casa omaggio floreale una pianta facciamo accattare scelto andiamo dalla finocchiaro ci facciamo dare quella che gli abbiamo portato e gliela ricicliamo al nuovo ospite al nuovo padrone di casa e al minuena finocchiaro a fare mirare la pianta ovvio che vuoi fare ci vengono le ruote andiamo avanti stiamo arrivando prepara la pianta e andiamo da fioraio andiamo da nuovo a tra poco a tra poco noi cominciamo ad andare a tra poco seguite i video perché scoprirete la reazione del nuovo padrone di casa chi sarà scommesso aperte scrivete scelto